Benvenuti a un affascinante video sulle segretezze del castello di Nechwanstein in Germania. Il castello di Nechwanstein non è solo un impressionante capolavoro architettonico, ma cela anche una serie di segreti e misteri da scoprire. Un segreto riguarda l'incredibile struttura del castello. Si dice che il re Ludwig II di Baviera fece costruire una dettagliata miniatura del castello prima dell'inizio effettivo dei lavori. Questa miniatura servì come una sorta di prototipo per il castello finale e contribuì a perfezionare il design e l'architettura. Un altro segreto riguarda gli interni del castello. Ogni stanza è decorata con affreschi artistici, arredi sontuosi e opere d'arte di grande valore. Tuttavia, c'è una camera speciale a cui il pubblico non ha accesso. Secondo voci, all'interno si troverebbe una stanza segreta che non è mai stata aperta. Cosa potrebbe celarsi dietro quella porta chiusa? Un altro affascinante segreto riguarda la connessione tra il re Ludwig II e il famoso compositore, invece, Wagner. Ludwig II era un grande ammiratore della musica di Wagner e si ispirò alle sue opere. Nel castello di Nesvanstein si possono trovare numerose rappresentazioni delle opere di Wagner, che sottolineano la passione del re per la musica e le arti. Ma forse il più grande segreto di Nesvanstein riguarda la misteriosa morte del re Ludwig II. Nel 1886 fu trovato morto nel lago Starnberger, in circostanze ancora oggi non del tutto chiarite. Le esatte circostanze della sua morte sono oggetto di speculazioni e teorie del complotto. Alcuni sostengono addirittura che la sua morte sia collegata ai segreti del castello. Il castello di Nesvanstein non è solo una meta turistica, ma anche un luogo ricco di enigmi e misteri. Offre un affascinante mix di storia, architettura e cultura da esplorare. Immergetevi nel mondo dei segreti di Nesvanstein e lasciatevi incantare dalla magia di questo castello unico. Chissà quali altri misteri attendono ancora di essere scoperti. Grazie per aver visto il video. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale per non perderti il prossimo spunto di viaggio. Grazie per aver guardato il video.